Il sindaco Variati nei mesi scorsi all'assemblea delle associazioni dei danneggiati dei consumatori aveva annunciato la costituzione di parte civile. Questo non è stato fatto, è gravissimo e ritengo che debba essere immediatamente riparato dando un segnale forte dopo anni di silenzio su questo argomento da parte del sindaco. Adesso l'unica possibilità è quella dell'udizia dibattimentale che guarda caso finirà dopo la fine del mandato di Variati e quindi competerà al prossimo sindaco la costituzione di parte civile. Noi se dovessimo vincere come crediamo le prossime elezioni lo faremo immediatamente. Noi vorremmo credere dei danni di immagine che sono stati riportati alla città di Vicenza per tutti gli effetti della popolare di Vicenza e quindi crediamo che sia un atto doveroso.